Il grande giorno è vicino, ecco tutto quello che sappiamo sulle nozze di Filippa e Daniele. La location ad ospitarli sarà Villa Ponti, affacciata sulle suggestive colline di Varese. L'abito da sposa, Filippa ha scelto la firma di Enzo Miccio, garanzia di classe ed eleganza. Il wedding planner, è stato lo stesso Enzo Miccio a curare ogni dettaglio del matrimonio. La damigella, il ruolo di damigella d'onore spetta alla figlia della coppia, la piccola stella. I testimoni, per la sposa ci saranno Barbara Snellenburg e Monica Schlosser. Per lo sposo, Lorenzo Flaherty e l'amico di sempre, Giuseppe. Le fedi, si vocifera che siano in oro bianco, giallo e rosa, classiche e raffinate. Il tema sarà Alice nel Paese delle Meraviglie. Per i 230 invitati ci sarà da divertirsi.